Oggi siamo a Roma, la signora Marcella ci ha contattato per una consegna molto importante, andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora Marcella dici, dalla lettera che ci ha inviato ci sembra una cosa molto importante. Avete sentito che hanno dato questo mese 80 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti? Io sono contenta, aiutiamo le famiglie in difficoltà, i giovani, i porelli, ma chi li aiuta i giovani? Meno male che ci siamo noi nonni che gli diamo, ogni tanto gli diamo una mano, gli allungiamo qualche cosetta. Mi capisco tanto di pensione, ho bisogno di edict, di medicina, di visite specialistiche. E poi qualche volta, se mi permettete, mi devo comprare pure un par di scarpe, però adesso ho imparato, adesso le porto dal calzolaio. A livello nazionale, dallo SPI, CGL, da FNP, CISL, dalla WILP, cioè le organizzazioni dei sindacati e dei pensionati, è scaturita un'iniziativa per spedire a Matteo Renzi delle cartoline per sensibilizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione che abbiamo in Italia e che colpisce in modo particolare i pensionati. I provvedimenti che sono stati presi in generale colpiscono molto perché tutti i tagli che ci sono stati su quello che sono il welfare, quindi le politiche sociali stanno mettendo in difficoltà i pensionati. Non solo questo, ma i pensionati negli ultimi due anni hanno subito un taglio sulla rivalutazione delle pensioni che si sta facendo sentire perché i pensionati comunque vivono una situazione delicata. I pensionati in Italia sono circa 16 milioni e 8 milioni di questi vivono con una pensione che non supera i 500-700 euro. Quindi è una situazione delicata quella che stiamo vivendo i pensionati ed è per questo che abbiamo mandato la cartolina proprio per far emergere le difficoltà che noi abbiamo per chiedere delle politiche idonee ad affrontare tutti i problemi che riguardano i pensionati. Problemi che riguardano noi tutti i pensionati ma che anche in Val d'Aosta comunque ci sono delle ripercussioni negative che stiamo subendo in questi giorni perché dai tagli che anche il bilancio regionale ha dovuto sopportare e si stanno riflettendo negativamente su quelle che sono le politiche sociali e il welfare in Val d'Aosta. In questi ultimi tre mesi la Regione sta portando avanti una politica di tagli che sta mettendo davvero in difficoltà i nostri pensionati perché i tagli riguardano i servizi sociali in generale. E' vero l'assessore in qualche incontro ci ha sempre detto che ha salvaguardato tutto quello che poteva salvaguardare le politiche che riguardano quindi noi pensionati però qualche problemino c'è perché dei tagli ce ne sono stati vede l'aumento delle rette nelle case di riposo, i tagli che riguardano soprattutto le politiche per mantenere a casa il pensionato non autosufficiente, sono state riviste le tabelle, sono stati rivisti i valori assoluti dei contributi e quindi anche quello che riguarda le badanti. Cioè stiamo vivendo un momento delicato. Si chiede un maggior contributo alle famiglie perché i costi delle case di riposo sono eccessivi, il bilancio pubblico non ce la fa, comunque diciamo che stiamo vivendo un momentino molto ma molto delicato e quindi anche in Val d'Aosta si sta mettendo in crisi quello che era il welfare che avevamo fino a qualche giorno. Per quanto riguarda l'iniziativa a livello nazionale devo dire che a livello valdostano tutte e quattro le sigle sindacali, perché alla campagna ha aderito anche il Savet, abbiamo raccolto un 800 cartoline che poi ogni sigla sindacale ha spedito per conto proprio. In questi giorni si sta verificando che si stanno consegnando a Palazzo Chigi, quindi dal Presidente del Consiglio, le numerose cartoline, perché chiaramente in proporzione a livello nazionale sono state elevate e la raccolta è stata elevata. Si ribadisce sempre quel concetto lì, un maggior riguardo per i pensionati, una rivalutazione delle pensioni che comunque negli ultimi 30 anni stanno perdendo il loro potere d'acquisto, politiche sociali più coerenti con quello che si vuole ottenere per avere un Paese effettivamente civile, perché non si possono trascurare tutte le politiche che riguardano i pensionati, solo pensando ai tagli, senza considerare però quello che è il vero problema sociale, la solitudine, la cattiva salute, la non autosufficienza. E poi come ultima richiesta che ci pare opportuno è quello che gli 80 euro che sono stati dati ai lavoratori dipendenti, non per fare la guerra tra noi, però ci sembra opportuno che visto che i redditi sono bassi, questi 80 euro vengono dati anche ai pensionati, perché solo così, visto che i pensionati sono numerosi, visto che il loro potere d'acquisto è basso, solo ottenendo qualcosa in più si può dare la possibilità anche di contribuire a rimettere un po' in movimento quello che è l'economia spicciola di ogni giorno. Le nostre organizzazioni sindacali a livello nazionale hanno organizzato un piccolo video che si trova sui siti nostri ed è possibile rivederlo e valutarlo. Su questo video viene evidenziato un'intervista a una pensionata che compila la lettera, che viene consegnata poi a un portalette che si trasferisce con la sua piccola bicicletta per consegnare tutto a Palazzo Chici. Chiaramente questo è un video simbolico, però vuole indicare che le azioni che noi come pensionati intraprendiamo, poi li portiamo a termine cercando di ottenere un qualcosa di positivo per i nostri rappresentanti. Questa cartolina che è pure in promemoria, dove c'è scritto che i pensionati non sono sereni e ci hanno bisogno di lui e vorrebbero una risposta. Marcella ci ha chiesto una mano e noi ora corriamo da Matteo Renzi a consegnare il messaggio. Ma qui non c'è nessuno. Il Presidente non c'è, ora direi che gli manderemo la cartolina della signora Marcella e anche quella di tanti altri pensionati che ci hanno scritto. A proposito, già che c'è mezzo, c'ho una cartolina anche io per te. Che dire allora Matteo? C'è posta per te? E c'è posta per te? 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 C'è posta per te?